Filippo Busina, perché decidete di andare in aula con questa maglietta? Questa è una vicenda che ha avuto un grandissimo clamore mediatico e in questi casi è giusto che l'opinione pubblica, i nostri elettori in particolare, sappiano in modo chiaro, diretto e semplice come la pensiamo, da che parte stiamo. E noi vogliamo dirlo in modo chiaro, indossando una maglietta che appunto dice noi stiamo con stacchio, con questa persona che ha fatto un atto di estremo altruismo, di grandissimo coraggio, affrontando dei malviventi armati di Kalashnikov per salvaguardare la vita di una persona lui cara, che era la commessa di Rimpettaia, il suo distributore.